MIGNOLINA Mignolina dormiva in un guscio di noce con un petalo di rosa per coperta. Era molto graziosa e in più cantava benissimo. La donna era molto contenta, ma una notte un grosso rospo entrò in casa e rapì Mignolina per darla in sposa a suo figlio, un rospo orrendo. Il grosso rospo imprigionò la piccola nello stagno, sopra una foglia di ninfea. Mignolina piangeva perché non voleva sposare il figlio del rospo. Per fortuna alcuni pesciolini la sentirono e rosicchiarono il gambo della foglia che fu portata via dalla corrente. Mignolina si allontanò dal rospo e dal suo figlio, ma poi un maggiorino la rapì e la portò sopra un albero. L'insetto pensava che fosse molto carina, però gli altri maggiorini cominciarono a dirle che era brutta perché aveva solo due gambe e non aveva le antenne. Così il maggiorino cambiò idea, la posò su un fiore e l'abbandonò. Mignolina visse triste e sola nel bosco, dormiva su un letto d'erba, si nutriva con il polline dei fiori e beveva la rugiata del mattino. Ma quando arrivò l'inverno, i fiori appassirono e cominciò a nevicare. La bambina tremava per il freddo. Sarebbe morta se non avesse avuto pietà di lei una topolina che aveva la sua tane in un campo di grano. Questa l'accolse e le diede cibo e riposo. Mignolina, in cambio, faceva le pulizie e raccontava belle storie alla padrona di casa. C'era un vicino della topolina, una talpa mezza cieca, che sentì cantare Mignolina e se ne innamorò. Scavò un passaggio dalla sua tana a quella della topolina e tornò spesso a trovare le due. La topolina cercò di convincere la bambina a sposare il talpone perché era ricco e istruito, però Mignolina non voleva. Un giorno, nel passaggio tra le due tane, la bambina trovò una rondine che aveva gli occhi chiusi e pareva morta per il freddo. Mignolina le posò la testa sul petto e scoprì che il suo cuore batteva. La rondine non era morta, era solo il letargo. Il freddo l'aveva sorpresa prima che riuscisse a migrare e lei si era addormentata. La bambina allora intrecciò una coperta con l'erba secca e con quella avvolse l'uccello. Poi si prese cura di lui, portandogli acqua e tutto il cibo che gli era necessario. Durante tutto l'inverno, Mignolina accudì la rondine senza che la talpa e la topolina se ne accorgessero. Quando fu primavera, la rondine ormai ristabilita uscì all'aperto. Prima di spiccare il volo, chiese alla bambina se volesse partire con lei. Mignolina preferì rimanere per non dare un dolore alla topolina. Passò la primavera e giunse l'estate. La topolina disse alla piccola che presto avrebbe dovuto sposare la talpa. Quando venne il giorno delle nozze, Mignolina uscì all'aperto per dare il suo addio al sole. Era triste perché non l'avrebbe più visto per chissà quanto tempo. Proprio in quel momento passò nel cielo la sua amica rondine. Questa scese e le disse che stava partendo per i paesi caldi. Mignolina non ci pensò due volte, salì sulla schiena della rondine e volò via con lei. Una volta giunte nei paesi caldi, ritrovarono l'estate. La rondine portò la fanciulla in un prato fiorito e la posò sulla corolla di un fiore. Dentro c'era un omino, alto come Mignolina, che aveva sul capo una corona d'oro e ali lucenti sulla schiena. Era lo spirito del fiore. In ogni fiore di quel prato abitavano un omino o una donnina come lui, e lui era il re di tutti loro. Lo spirito del fiore le chiese se voleva essere la sua sposa, e lei rispose di sì. Subito dai fiori uscirono festanti graziosi omine e donnine alati. A Mignolina vennero donati un paio di ali e anche un nome nuovo, Maya. La rondine tornò spesso a trovare la bambina, che adesso era felice. Poi, quando fu il tempo, l'uccello salutò la sua piccola amica e tornò a migrare verso nord. Fine